Una produzione Vigi Channel Bentornati a Cibo ed Intorni In questo numero, un vino una storia, la storia del buon vino continua nelle cantine di Ocone Tra profumi ed ingredienti nel laboratorio della pasticceria Mennella Dove tutto è pronto per sfornare i panettoni artigianali apprezzati anche a Milano Come nasce un cioccolatino di design? Ce lo racconta Caterina Gambardella di Nero Vesuvio Chi è? Chi c'è? C'è il mosto Questo è un altro pezzo di racconto della storia del vino Siamo sempre con Domenico Ocone di Ocone Vini del Sanneo dal 1910 E questa però è una fase che non cambia Cioè dopo la vendemmia, la separazione dei chicchi eccetera Il vino non è ancora vino ma è mostro Per la verità è un ritorno al passato Nel senso che già un tempo si usavano le botti itini In francese Foudre perché sono i classici tini e tronco conici Da 70 a 100 dollari circa Nei quali il vino fermenta da 8 a 32 giorni Dipende dalla tipologia di uve Dipende dall'invecchiamento a cui vuol destinare quel prodotto E usate esclusivamente per i vini rossi Perché si fa questo? Perché il legno è estremamente coibente E quindi non permette dispersione termica E permette che la fermentazione parta con una temperatura E arrivi alla fine con quella temperatura Questo vale solo per i rossi Per i bianchi vale esattamente il contrario I mosti dei vini bianchi Dopo essere stati diraspati Eppure diciamo depauperati delle bucce Con la prestatura soffice Fanno criomacerazione Cioè fermentalo a freddo Perché le uve dell'Italia meridionale in generale Sono meno piene di sapori e di aromi Delle uve dell'Italia del nord Per cui gli aromi che maggiormente serviamo Sono aromi di fermentazione Quindi aromi secondari Che solo il freddo è in grado di mantenere Che cosa succede? Che vedete a fianco a voi Gli accei inossidabili sono destinati a contenere i bianchi Che cosa succede subito dopo? Succede che praticamente i saccaromices Cioè i fermenti della vendemmia Generando all'edite carbonica Consumando ossigeno Trasformano gli zuccheri in alcol E' un procedimento vecchio quanto il mondo Si pensa che addirittura sia stato Noè alla discesa dell'arca Perché la vite viene senz'altro dall'Asia minore Quindi dall'Anatolia Abbia trovato sotto il sole Allora la vite è una liana Quindi prima di essere allevata Strisciava Proprio come le liane dei film di Tarzan E un grappolo su una piedra rovente Aveva cominciato a fermentare E Noè si sarebbe accorto Mitologicamente come Cambrinus per la birra Che il prodotto che ne veniva Non era più succo d'uva Ma era qualcosa addirittura di inebriante Quindi era avvenuto qualche cosa Era avvenuta la fermentazione La fermentazione è un procedimento Che si ritrova in tantissimi altri prodotti Della terra E quindi aveva trasformato Gli zuccheri e quindi l'uva Da mosto a vino Saltiamo da un argomento all'altro Ma sempre in tema natalizio In questa puntata di Cibo e dintorni Siamo ritornati da Nero Vesuvio In compagnia di Caterina Gambardella Che vi ho già presentato Nella scorsa puntata Lei è una designer a 360 gradi Ma soprattutto è l'ideatrice La creatrice di questo marchio di cioccolato Esclusivamente fondente Nero Vesuvio Che tanto successo sta riscuotendo Tant'è vero che un po' di tempo fa Avete avuto una importantissima collaborazione Con Marinella In occasione dell'inaugurazione Di un suo punto vendita Avete creato proprio delle scatoline personalizzate Assolutamente Un'esperienza molto interessante E divertente Caterina Oggi dobbiamo raccontare ai nostri ascoltatori Che si sono molto incuriositi Dal racconto della scorsa settimana Come nasce il cioccolatino Nero Vesuvio Tu hai scelto quattro simboli della napoletanità E raccontaci un po' Che cosa è successo? Allora Queste che vedete alle mie spalle Sono delle stampante in 3D Che noi usiamo ovviamente Per realizzare i nostri progetti Quindi disegnando un gioiello Come ho detto nella scorsa puntata Abbiamo poi stampato questa piccola icona A forma di San Gennaro E da lì è partito tutto Perché ovviamente Per poter completare Secondo me Proprio tutto il discorso Sui simboli e le icone di Napoli Bisognava aggiungere il Vesuvio Con tanto di pennacchio Esatto Con tanto di pennacchio L'ex voto Che come sappiamo il cuore sacro Quindi la devozione E il corno Quindi la scaramanzia E la buona fortuna Sì il triplo corno E questo è quanto Abbiamo ideato una piccola scatolina Da quattro simboli E poi le scatoline insomma Quelle più grandi Quindi noi qui adesso Lo vediamo proprio Un mezzo busto di San Gennaro Il progetto è stato proprio Un vero e proprio progetto Quasi diciamo di architettura Di design Insomma c'è la parola Di design in 3D Quindi avete creato Avete prima creato Una bozza del disegno Noi abbiamo creato Una bozza del disegno Ma poi attraverso il computer Abbiamo disegnato E poi di come questo cioccolatino Viene confezionato Tu l'hai già accennato Ci sono delle scatorine Che sono una vera e propria Chicca Siamo in prossimità del Natale Ma c'è ancora un po' di possibilità Di avere qualche scatola Ecco l'ultima cosa Prima di salutarci C'è una scelta di non avere Un punto vendita No in realtà Abbiamo due punti vendita In questo momento Baccarelli a Via Carlo Poerio E Dialetti a Vico Satriano Vi appoggiate però Non c'è un marchio nero-vesuvio C'è il marchio nero-vesuvio No non c'è una monomarca No assolutamente Poi c'è Colonnese Al centro storico La famosa libreria Colonnese Quindi anche questa È una scelta in linea Con la tipologia di prodotti Quella di appoggiarsi In determinate location Perché Napoli Insomma sono sicuramente Questi simboli Ma molto altro E a proposito di molto altro Ci vuoi dintorni e continua Cari amici Mi avete beccato Siamo ritornati Nei laboratori di Mennella Torre del Greco Dove in compagnia di Roberto Abbiamo un po' scoperto Quelle che erano le qualità Diciamo le peculiarità Di un panettone artigianale Roberto Le materie prime eccezionali Però dietro un grande panettone C'è pure una grande lavorazione Un impegno Io vedo qua questo Trionfo di panettoni Ma quanto tempo deve cuocere un panettone? Come deve cuocere? A che temperatura? Diciamo che sicuramente Per fare un panettone C'è bisogno di tanto tempo E tanta dedizione Un panettone impiega circa 60 ore Per essere completato Abbiamo Viene impastato due volte Viene fatto livitare due volte Poi viene cotto per circa un'ora In forno E all'uscita dal forno Viene immediatamente capovolto Con questi speciali assi Che Ecco questa è una curiosità Ecco che ti volevo chiedere Per quale motivo Questi panettoni I panettoni stanno tutti a capa sotto I panettoni stanno a capa sotto Perché praticamente All'uscita dal forno Tutte le materie Che fanno parte dell'impasto Quindi il bugio Anche l'uovo Sono ancora molto tenere Essendo caldo Quindi il panettone Se ne scenderebbe subito Allora vengono messi Questi assi e girati Quindi Praticamente Così conserva Quella meravigliosa forma Tondeggiante Che poi ci affascina E riavviciniamoci Un'altra volta A questo che è un po' Il tavolo delle meraviglie Perché io lo chiamo così Il tavolo delle meraviglie E qua Vabbè Io vedo Un pandoro Vabbè Che anche Siete scesi in campo Col pandoro Però Quello che mi affascina di più È questo panettone Spiegami un attimino Vedo questo Questo colore Questo Questo colore naturale Queste scorzette Queste cose Questi alveoli Il colore naturale Questo Questo giallo Così intenso È dato dalla presenza Di una Grande quantità Di tuorlo d'uovo Invece Questi alveoli Di forma Così allungata Sono dati Dalla quantità Di lievito naturale Presente nel Nel panettone E naturalmente Anche dai tempi Di lievitazione Anche dai tempi Di lievitazione Come dicevamo Sono Di circa 60 ore Insomma Quest'anno Avete anche cambiato La confezione Avete una confezione Molto chic Molto elegante Che secondo me È pure Un marchio di fabbrica È un valore Aggiunto al panettone Diciamo che sostanzialmente Quest'anno presentiamo Una confezione Che fa sia Da 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 Inballo Che Da 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 Inballo Quindi è un cartoncino Ma Alla rigidità Della Busta Insomma Rò Io vorrei assaggiare Una fettina Di panettone Se qualche tuo collaboratore Mi dà Un coltellino Per provarla Perché So Curioso e poi sono goloso.